Clima teso nel box Aprilia. Dopo l'accusa nei confronti di Andrea Annone per presunto doping, arrivano le parole del compagno di squadra Alec Spargarò, che non gliel'ha mandata a dire. Mi è mancato di rispetto, da oggi finisce il nostro rapporto. L'italiano aveva detto che la nuova moto era nata soprattutto grazie alle sue indicazioni. E Spargarò evidentemente non l'ha presa bene e l'ha attaccato. Dura presa di posizione del pilota spagnolo nei confronti del compagno di squadra, che nel giorno della presentazione della nuova Aprilia aveva detto, la moto è stata fatta per la maggior parte con le mie indicazioni. Devo ringraziare il team per la fiducia. Ho avuto altri compagni di box, non ho mai avuto problemi con nessuno, anche con Annone. Ma dopo quello che ha detto, per me è la fine della nostra buona relazione. Le sue parole sono stata una grande mancanza di rispetto verso gli ingegneri, i meccanici, Bradley Smith e anche verso di me. Ha ribattuto Spargarò, spogandosi ai microfoni di Dazon Spagna. E ancora, lo scorso anno ha corso con i miei assetti e il 90% delle volte mi è arrivato dietro. Ad ogni modo, Annone non ha tutti i torti nell'affermare la sua importanza nello sviluppo della nuova RSGP. Grazie alle indicazioni di Andrea, abbiamo capito molte cose. Aveva spiegato ai media Romano Albesiano, il direttore tecnico del team. Lasciandosi alle spalle questo dibattito, si spera che le cose tra i due si rimettono a posto. La collaborazione e l'aiuto reciproco sono fondamentali per vincere. Grazie.